Buongiorno ragazzi, sono molto felice di fare questo video perché in realtà non è un video di fisica ma è un indovinello, solo che mi serve per introdurre l'effettivo secondo video dell'effetto fotoelettrico, dove i protagonisti saranno appunto il concetto di energia cinetica massima e di potenziale d'arresto. Quindi questo video serve per farvi capire il metodo del potenziale d'arresto. Ma andiamo con l'indovinello. Siamo in un carcere, ci sono tanti detenuti. Quindi ogni detenuto è caratterizzato da avere una certa cauzione. Quindi cosa è una cauzione? Sono i soldi che tu devi dare dall'esterno al detenuto affinché lui possa liberarsi. Secondo step, ogni detenuto viene data la stessa somma, quindi immaginiamo che ci sia una persona che va a dare top soldi a tutti i detenuti, la stessa somma che però è sconosciuta. Vi dico già che dovrete pensare ad un metodo, perché a un certo punto dovrete anzi mettere pausa voi nel video e poi cercare la soluzione nella vostra testa, poi ovviamente alla fine del video spiegherò come si fa, per capire come si fa a trovare questa somma sconosciuta, che però è uguale per tutti. Terza cosa, ovviamente i detenuti non hanno la stessa cauzione. Quindi la cauzione di ogni detenuto ovviamente sarà maggiore o uguale della cauzione minima, che chiamiamo CM, che poi è appunto per cauzione minima, che appunto poi è un parametro molto importante, la cauzione minima. Quindi diciamo ci sono tantissimi detenuti, possono essere liberati perché hanno fatto un reato minore, solo con 100 euro. Quindi tutti gli altri, inclusi loro, hanno una cauzione maggiore o uguale di 100 euro. Se ovviamente la somma sconosciuta risulta maggiore o uguale della cauzione, attenzione non della cauzione minima, tu prendi un detenuto, facciamo finta che un detenuto abbia una cauzione di 120 euro, se ovviamente la somma che ti viene data è più piccola di 120 euro, quel detenuto è fregato, non può liberarsi, se invece è maggiore viene liberato e quindi i detenuti scappano di prigione, questo è chiaro. Non facciamo confusione tra cauzione e cauzione minima, la cauzione minima è la minima tra, diciamo, il valore minimo tra tutte le cauzioni. Però attenzione, perché quando un detenuto esce di prigione, io devo costruire qualcosa, adesso lo capiamo subito, per capire qual è quella somma sconosciuta che è stata data a tutti in modo uguale. Perché altrimenti, fatto così, io non capire mai, ok? Vedrei solo certi detenuti che riescono a scappare e altri detenuti che non riescono a scappare. Anche, ovviamente, se io sapessi che la cauzione minima è di 100 euro. Posso solo dire al massimo che se vedo dei detenuti scappare, almeno uno, so che questa somma è sicuramente maggiore di 100. Se invece non scappa a nessuno, ho dato una somma troppo piccola, anche a quello con la cauzione più piccola, questo è ovvio. E allora faccio, costruisco una cosa, che adesso vi faccio vedere, e quando i detenuti scappano, cioè escono di prigione, però ogni metro percorso che fanno, perdono una quota, che viene scelta da me. Ed è una quota che io posso cambiare esperimento per esperimento. Quindi, attenzione, vi faccio vedere questo esperimento. Infatti la domanda è, ma io come faccio a trovare il valore di S? Allora, immaginiamo che qui io abbia la prigione, la chiamo zona d'estrazione, perché poi ci sarà un collegamento con l'effetto fotoelettrico, però è da lì che io estraggo, diciamo, i prigionieri ed escono. E visto che la cauzione minima è 100 euro, quanti soldi saranno rimasti in tasca a ogni detenuto? Beh, sicuramente è la somma S, che hanno intascato all'inizio, meno la cauzione. Quindi sicuramente questo è il prigioniero, diciamo, favorito, perché lui ha sicuramente più soldi in tasca di lui e di lui. Infatti, ad esempio, il secondo aveva una cauzione di 110 euro, ok? Quindi sicuramente avrà 10 euro in meno del primo, mentre il terzo avrà 20 euro in meno in tasca del primo. Ovviamente quello con la cauzione più piccola è più ricco. Però attenzione che io adesso, alla mia destra, ho costruito un muro di raccolta. Come funziona questo muro di raccolta? Tanto è a distanza 100 metri fissi dalla prigione e io ogni metro prendo, confisco, tot euro a questi detenuti. Se il detenuto, però, in mezzo al percorso, perde tutti i soldi che ha, ovviamente torna indietro, perché non ha la possibilità di salvarsi. se invece un detenuto riesce ad arrivare al muro di raccolta, ok? Facciamo in finta a chi gli sono rimasti 6 euro, bussa, tanto per capire il segnale, tante volte quanti soldi li rimangono. Quindi bussa 6 volte e poi se ne va. Ringrazia e se ne va. Invece, una, ripeto, se un detenuto perde tutti i soldi che ha magari in questo punto non può fare altro che con la coda tra le gambe di ritornare indietro. C'è anche la possibilità di un prigioniero che arrivi esattamente qui, però perda tutti i soldi che ha quando sta per bussare. A quel punto arriva lì e non può fare altro. Non bussa. Questa cosa è importante. Ditemi se avete capito tutto, perché adesso la domanda che vi faccio è sapendo queste cose voi sapete trovare questa somma sconosciuta? Quindi mettete in pausa il video se sicuramente spero che sia tutto chiaro e pensate un attimo come faccio a capire quanto vale questa somma sconosciuta. Vi ricordo che quando i detenuti arrivano su questo muro di raccolta non bussano tutti allo stesso modo perché ovviamente facciamo finta che anche lui riesca ad arrivare. Ok? sicuramente allora riuscirà arrivare anche lui e busserà 10 volte di più e lui busserà 20 volte di più rispetto al terzo. Però è possibile ad esempio che magari possono arrivare soltanto loro due o peggio aumentando la quota che possa arrivare solo lui o peggio che aumentando ancora più la quota non arrivi nessuno. Bene. Adesso vi mostro vi mostro l'idea che poi è il metodo del potenziale del resto. Qual è l'idea? L'idea che in realtà vi ho già praticamente già detto è di aumentare la quota fino a quando non sento più nessuno bussare perché fino a quando la quota è molto piccola arrivano tutti bussano tutti e non riesco a capire qual è la somma sconosciuta. e quindi comincio ad aumentarla cominciando ad aumentare la quota sentirò sempre meno gente che bussa per due motivi anche le persone che hanno in tasca più soldi busseranno di meno perché ho aumentato la quota quindi perdono più soldi ma soprattutto c'è proprio qualcuno che non riesce più ad arrivare ed è costretto con la coda tra le gambe a tornare indietro quindi cosa faccio? Ad esempio qui sono tutti esempi ragazzi faccio quattro esperimenti ad esempio faccio una quota di due euro ogni metro sento bussare sì allora cosa dico? vabbè sento bussare tantissimo aumento la quota per vedere se qualcuno ci arriva ancora fino al muro di raccolta quattro euro ogni metro attenzione sì ce la fanno ci sono un po' di detenuti con tanti soldi in tasca allora cosa faccio? aumento la quota ogni detenuto mi deve dare ogni metro che percorre fuori da prigione sei euro sento bussare? sì dico va bene allora aumento ancora la quota se la quota è 8 euro al metro eh qui sto chiedendo tanto ogni metro ai detenuti e non sento bussare ragazzi non sento bussare vuol dire che nessuno è riuscito ad arrivare al muro di raccolta neanche la persona con più soldi in tasca ancora e quindi con la crozione minima è riuscito ad arrivare al muro di raccolta quindi posso dire con assoluta certezza che 8 euro al metro è la quota con la quale il detenuto che ha ancora più soldi che ha ancora più soldi in tasca e quindi con la crozione minima posso dire che questa è la quota giusta con cui lui è arrivato esattamente con zero soldi? beh ovviamente la risposta è no sicuramente è un valore che è compreso tra 6 e 8 perché con 6 ce la fa con 8 non ce la fa allora come si fa a essere un pochino più precisi? ma ovviamente visto che a 6 ce la fa e 8 non ce la fa facciamo un metodo che poi è simile in matematica al metodo di bissezione cioè semplicemente facciamo uno zoom e allora visto che so che diciamo il valore giusto di quota per cui il detenuto che risulta più ricco arriva con zero euro al muro di raccolta così non busso ma per un pelo faccio uno zoom diciamo nella finestra da 6 a 8 e quindi da 6 a 8 apro una finestra magari con un'altra sì con nove valori quasi una decina di valori e allora mi accorgo che appunto con la quota di 6 euro bussavano con la quota di 8 no però vedete che adesso ho aperto una finestra più piccola e mi accorgo che fino a 7 euro e 50 al metro ce la fanno e 7,75 no mi accontento 7,75 è quindi la quota con la quale diciamo non arriva nessuno ma arriva a pelo ma è solo questione di pignolleria cioè potrei aprire e l'ho fatto un'altra finestra tra 7,50 e 7,75 dove ovviamente qui c'è il sì prima aumentavo in questa finestra di 2 euro in 2 euro qui di 25 centesimi qui aumento di un centesimo alla volta così voglio essere preciso sul a meno di un centesimo e mi accorgo che diciamo la separazione diciamo che è solo di un centesimo avviene la differenza a 7,56 euro ogni metro qualcuno arriva ok perché sento bussare a 7,57 euro al metro non arriva più nessuno quindi significa sostanzialmente che qui ci è arrivato ma praticamente solo il detenuto con ancora i soldi in tasca maggiori quindi quello con la coazione minima ecco perché la coazione minima è importante perché il segnale è solo dato da loro sostanzialmente e poi invece a 7,57 anche il detenuto questo è importante più ricco con la coazione minima non ce l'ha fatto e quindi visto che a 7,56 l'omino riusciva ad arrivare al muro di raccolta a bussare e a 7,57 quindi io so che l'omino è praticamente lì ma ha speso anche l'ultimo centesimo e quindi non riesce più a bussare è arrivato al muro di raccolta sta per uscire ma non bussa non ce la fa più quindi con una precisione di un centesimo di euro al metro posso dire giustamente che la quota ok giusta il numero che volevo ottenere è di 7,57 euro al metro ok questa è la quota di arresto e quindi arriviamo quota di arresto al metro e quindi arriviamo alla soluzione spero che questo di veneno sia stato interessante e che sia chiaro mi spiego i detenuti con cauzione minore quindi arrivano a pelo ma non riescono a bussare hanno speso tutto è quello che è successo con una quota al metro di 7,57 euro al metro quindi alla fine riusciamo a risalire qual era la somma sconosciuta a questo punto sì perché avendo solo l'informazione su le persone con la cauzione minima e io ragazzi la cauzione minima la sapevo era 100 euro e l'ultima bussata a 7,56 è stata data praticamente solo da quello con la cauzione minima di 100 euro è questo il dato che a me serve perché per uscire di prigione hanno utilizzato la cauzione minima di 100 euro però io so anche queste persone più fortunate perché abbiamo più soldi in tasca quanti soldi hanno speso durante il viaggio perché ovviamente se la mia quota d'arresto al metro è di 7,57 euro al metro e io anzi e il detenuto perché non sono ancora andato in carcere ha percorso 100 metri significa ovviamente che durante il viaggio quanti soldi ha speso e beh 7,57% 757 euro questo la possiamo chiamare spese d'arresto sono tutti i soldi che l'omino più ricco aveva in tasca quindi precisamente questi ok nel nostro esempio sono 757 euro quindi risulta scontato capire ovviamente che la somma sconosciuta che è stata data all'inizio uguale per tutti ovviamente è la somma tra la spesa di arresto quindi tutti i soldi che il detenuto ha dovuto spendere percorrere per arrivare al muro di raccolta più la cauzione che sono i soldi che il detenuto ha dovuto spendere per la cauzione quindi la soluzione è che a tutti è stata data una somma pari a 857 euro beh è un indovinello abbastanza interessante ovviamente l'indovinello non era indovinare il numero perché dipende dalla quota e quindi bisognava solo accendere il cervello il prossimo video ovviamente sarà il secondo effettivo per quanto riguarda l'effetto fotoelettrico e quindi io introdurrò delle quantità molto simili e tra l'altro ragazzi ho utilizzato lo stesso colore in questo video per le quantità che descriverò nel video successivo quindi non è difficile e quindi ragazzi cercate di capire uscendo dalla metafora ovviamente dei detenuti fisicamente a cosa corrispondono queste quattro quantità cioè la quota q variabile di euro al metro in fisica cosa sarà nell'effetto fotoelettrico a cosa corrisponde la cauzione minima anche se questa in realtà l'ho introdotta già nel primo video che cos'è la spesa di arresto quindi i soldi che erano rimasti in mano al detenuto più ricco quindi la somma totale meno la cauzione minima e la somma donata grazie a tutti grazie a tutti